e anche stavolta abbiamo portato lo stendardo a fare un bel giro di 1250 chilometri dove siamo andati lo scoprirete in questo video buongiorno dove andiamo genna andremo in toscana andremo a fare il famoso circuito dell'eroica e arriveremo in zona a siena dove pernotteremo due notti giro sull'eroica poi ritorno verso il sud la legge bella è vero è visto tra pata di rock e non lo so altro puoi fare la tua moto adatta per la eccola qui ho messo anche le gomme da eccola qui a chi sono pensate ragazzi stellate le ciucce purtroppo abbiamo fatto una sosta all'ospedale dopo tre ore di viaggio cucciolò noi ti vogliamo molto bene siamo qui su che ti stiamo aspettando e ora ti diamo notizie ieri ci siamo lasciati poi malomodo c'è dell'ospedale sant'andrea comunque carmine sembra che abbia solamente il polso fratturato e restava lì questa notte domani l'ortopedico lo visitava meglio e noi abbiamo continuato il viaggio grazie alle parole rincoranti della dei medici siamo arrivati tardi qui abbiamo fatto tutto un po più di corso dopo una bella cena siamo riusciti ad andare a dormire verso le due ed ora piano piano credo che ci avvieremo verso le 10 per l'eroica sentite dove siamo andati a mangiare la capannina un po più giù c'è un cartello eroico al destra è arrivato il capo officina la sento leggermente fiacca questa gomma mario inizia la nostra avventura nell'eroica la prima volta per tutti grazie 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 per la visione! 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 Grazie per la visione!